frontiera i due si sono incrociati sotto il portico che separa la vita dalla morte si sono guardati freddamente anche se il cuore batteva impazzito sono passati uno accanto all'altro ma non han detto parola bloccata la gola affannato il respiro e sono andati avanti perché era troppo tardi il tempo già scaduto la storia raccontata grazie a tutti